Se un tuo passeggero non indossa la cintura di sicurezza e si procura un infortunio durante un incidente stradale, la compagnia potrebbe anche non pagare il danno subito, perché in quel momento il responsabile è il conducente del veicolo. Con poco più di 10 euro l'anno potrai acquistare la rinuncia alla rivalza per i terzi trasportati. E tu lo sapevi?